Non solo i pazienti, ci sono anche medici, infermieri e operatori sanitari tra i cittadini che convivono da decenni con le difficoltà di raggiungere l'ospedale di Padova. Questo signore lo sa bene. Aspetto mia figlia che fa l'infermiera e non c'è posto di parcheggio, quindi la devo accompagnare, perché non c'è posto per la macchina. Sua figlia lavora al Giustinianeo da più di dieci anni e come lei tanti pazienti vicini e lontani che a Padova arrivano per le cure di eccellenza. Che specialità vi fa venire da Modena? Sono in teologia, qua a Padova, sì. È un'eccellenza? Sì, è un'eccellenza e quindi vengo qua proprio da Modena. Sinceramente come parcheggio noi siamo state fortunate, però in effetti è un po' difficile parcheggiare. Poi per noi che veniamo da fuori ci vorrebbe un po' più di comodità in questo senso. E poi ci sono i padovani che si arrangiano. Sì, sì. Ma questa la sempre sa, non solo adesso. E quindi voi vi attrezzate con l'aiuto di... Di solito quanto tempo in più mette in conto per venire qua? Non le so dire signora perché appunto c'è questo incubo del parcheggio. Un nuovo ospedale alla città serve. Speriamo che l'orizzonte dell'estate per l'accessione delle aree alla regione promesso dal sindaco Giordani venga rispettato. Intanto qualcuno si è contento di quel che c'è e gode quando il posto per disabili lo trova libero inaspettatamente. Questo io non l'ho mai trovato libero e sono anni che mi ho mai trovato libero. Oggi solo l'ho trovato libero. Ce ne sono pochi, specialmente vicino all'ospedale. Ce ne sono pochi. Grazie a tutti.